Ciao, benvenuti in questo nuovo video oggi principalmente vi parlerò di un profumo un profumo nuovo che ho acquistato in Faberlic sarebbe questo guardate quanto è bella la scatola con tutti questi fiori è blu con tutti questi fiori questo profumo si chiama Bouquet de Nuit guardate, è molto molto carina questa confezione questo è uno de parfum da 50 ml vi faccio vedere l'interno questo è il primo profumo di Faberlic che ho acquisto guardate quanto è bellino molto molto carino l'ho utilizzato in questi giorni e quindi adesso ve ne parlerò ho fatto il tappo in questo modo con il blu è molto molto carina adesso vi leggerò le note olfattive di questo profumo e allora, innanzitutto voglio dirvi che la maggioranza dei profumi di Faberlic che sono tutti au de parfum e quindi questa è già una cosa buona perché sono infatti abbastanza persistenti e poi sono tutti realizzati creati da profumieri francesi allora, vi leggo le note olfattive allora, Bouquet de Nuit questo qui di Faberlic che è una fragranza del gruppo floreale da donna è stato lanciato sul mercato nel 2016 il naso di questa fragranza è Marie Patrice Urel non fate caso alla pronuncia perché non lo so come qual è la pronuncia esatta le note di testa è bergamotto le note di cuore sono gelsumino tuberosa e fiore d'arancio le note di base sono vetiver e vaniglia la fragranza contiene note di tuberosa gelsumino, fiore d'arancio, vaniglia e vetiver ed è un profumo molto particolare con tutte queste note che vi ho letto molto particolare e si sente parecchio diciamo che non vi lascia inosservati quando utilizzate, indossate questo profumo e quindi questo fa parte il primo profumo di Faberlic della mia prima collezione di questa linea che sicuramente acquisterò degli altri perché mi è piaciuto molto questo profumo e poi fra le altre cose costano anche poco hanno dei prezzi veramente accessibili a tutti e poi sono di ottima qualità considerando che appunto sono stati tutti realizzati da importanti profumieri francesi adesso vi mostro alcune cosine che mi sono arrivate oggi un piccolo ordine allora iniziamo da questo questo qui li ho già usciti tutti dal pacco così almeno per non perdere molto tempo ecco come potete vedere questo è un manico di un mocio sarebbe un mocio lo leggo qua con un manico telescopico appunto per lavare il pavimento è fatto in questo modo poi si svita così si smonta e si inserisce ecco la sua spugnetta che è morbidissima questo l'ho acquistato per me perché Faberlic ho tre avere profumi cosmetici anche accessori per la pulizia della casa vedersi tantissimi tantissimi altri prodotti e quindi questo lo proverò poi mi è stato ordinato un profumo identico a quello mio siccome appunto una persona ha visto il mio profumo e l'ha voluto acquistare proprio identico è caduta la scopa nel frattempo e poi è arrivata questa che io già la sto testando mi sto trovando molto bene è uno scrub a fior d'alisio e melograno questo scrub è da 75 ml per il viso ha ingredienti naturali è un ottimo ince infatti quindi io mi sto trovando benissimo è molto delicato lo utilizzo un giorno sì e un giorno no per lavarmi il viso è molto molto delicato lascia poi la pelle morbida un ottimo prodotto poi è arrivato questo sapone per le mani io ne ho prezzi di questi se non sbaglio due questa fragranza in particolare ha la pere e caramello è profumatissimo questo buonissimo questo mi è stato ordinato poi ho ordinato per me questo smalto che in particolare è un rafforza unghie questo contiene calcio e lo voglio provare perché per punto rafforzare le mie unghie ve ne parlerò magari in seguito e poi è arrivata questa tinta per le labbra vi dico qual è il colore perché da qui non si capisce non lo posso aprire perché non è il mio questo rossetto ecco è questo si chiama lampone un bellissimo colore devo dire questo lampone è il codice se qualcuno lo vuole sapere 44 15 3 queste sono tinte labbra sarà sicuramente buono lo acquisterò in seguito anch'io e poi è arrivata sempre per una cliente questa tinta per i capelli della linea botanica questa linea botanica ha ingredienti per lo più naturali se non sbaglio questa qui in particolare dovrebbe essere al 98% di ingredienti naturali questa è senza ammoniaca e quindi non brucia assolutamente e all'interno troverete tutto il kit ci sono tantissime colorazioni questo è particolare castano chiaro ecco il numero 6 4 1 e poi sono arrivati i cataloghi ho ordinato diversi cataloghi della campagna numero 8 e poi le mie amate soviettine per struccare il viso gli occhi e per il viso sono ottime perché non bruciano sono delicatissime queste mi sto trovando bene infatti questa è la terza o quarta confezione che acquisto e poi delle barrette che anche queste sono ottime queste barrette queste sono con il 21% di proteine e questa al cocco 1 o 2 sono al cocco 2 al pistacchio queste sono utili per fare degli spuntini sia per le persone che praticano sport o sia per chi vuole passarsi diciamo uno sfizio da togliersi il piacere di gustare un cioccolatino perché alla base di questi snack sono tutti ricoperti del cioccolato e poi all'interno hanno vari gusti come il cocco pistacchio e tanti altri come questo che è al mandorle e ciliegie mandorle e ciliegie quest'altro è invece mirtillo questo è il mirtillo e queste altre due mirtille e un'altra uguale come quella mandorle e ciliegie e questi sono i piccoli prodotti che mi sono arrivati aspetto un altro pacco che mi dovrà arrivare la settimana prossima e quindi questi sono tutti i prodotti che troverete in questo catalogo nella campagna numero 8 per chi invece desidera iscriversi in Faberlic in questa campagna che parte dall'8 che già è iniziata dall'8 giugno finisce il 28 giugno avrà in omaggio questo questo set di detersivi che è una linea ecologica sono detersivi super concentrati e sono ottimi uno è proprio un detersivo per la per la biancheria e l'altro invece l'altro è uno smacchiatore concentrato entrambi hanno un valore di 13 euro e 42 invece facendo appunto iscrivendosi in Faberlic proprio in questa campagna questo kit verrà dato in omaggio al secondo ordine basta fare il primo ordine di 26 euro e 99 al secondo ordine basta anche fare un ordine minimo di 18 euro per avere gratis questo set di detersivi e inoltre iscriversi in Faberlic è completamente gratis non richiede assolutamente nessun impegno nel senso che se si cambia idea se non si vuole fare più si può tranquillamente interrompere quando si desidera si può anche iscriversi semplicemente per autoconsumo oppure per guadagno e perché è bello il consiglio di provare tutti questi prodotti perché sono prodotti per lo più naturali e poi sono molti di questi prodotti sono super concentrati come tutti i detersivi anche anche i prodotti tipo per le mani il bagno schiuma sono tutti concentrati ne basta proprio poco e poi sono economici sono pochi sono di ottima qualità e poi oltre a tutto questo quando chi si vuole scrivere non è nessun obbligo perché non esistono nessun non c'è nessun kit da acquistare assolutamente dal momento che si iscrive subito si può fare il proprio ordine tramite il telefono tramite il tablet o il computer e quindi io come ripeto vi consiglio di provare perché sono ottimi prodotti veramente io li sto provando man mano rimango sempre stupita dalla qualità di questi prodotti sono veramente eccellenti se vi fa piacere potete anche iscrivermi da soli vi lascerò il link oppure vi posso iscrivere io e potete così in questo modo entrare a far parte del mio team che devo dire che è molto affiatato ci sono tante persone che sono disposte ad aiutarvi grazie per avermi ascoltato e grazie anche a tutti i nuovi iscritti al mio canale e vi incoraggio a iscrivervi così per poter ricevere sempre le notifiche e poter così non perdere i successivi video che farò va bene grazie ancora per l'ascolto ciao buona serata a tutti